Allora il quinto incontro della serata prevede angolo rosso, maglietta e cenzio angolo blu, ragazzino, medaglia d'oro, categoria 60 grammi Allora affida l'incontro il signor Cassini Buoni secondi, è la prima presa Vai Francesco, vai Vai Francesco Vai Francesco Vai Francesco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fuori i secondi. E la seconda riflessa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.